Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, vi chiediamo un semplice, mi piace, a questo video e l'iscrizione al nostro canale. Grazie di cuore. Oggi, ci immergiamo in una notizia sconvolgente riguardante la nota attrice italiana Sofia Loren. Sin da giovane, Sofia Loren ha fatto il suo ingresso nel mondo dell'arte, conquistando riconoscimenti sin dagli anni 50. Il suo talento ha brillato attraverso le sue interpretazioni in film comici come, pane, amore e, ma è con le pellicole nel tipico stile hollywoodiano, come, un marito per cinzia, e, la ciociara, che il suo nome ha raggiunto l'apice. Nel 1991, Sofia Loren ha ricevuto anche l'Oscar onorario, consacrando la sua carriera straordinaria. La notizia della presunta morte di Sofia Loren ha suscitato grande preoccupazione tra i suoi fan in tutto il mondo all'inizio di questa settimana. Tuttavia, questa notizia, risalente a settembre 2023, è emersa con insistenza solo sabato, quando una pagina sui social chiamata, Rip Sofia Loren, ha ottenuto quasi un milione di, mi piace. Curiosamente, Sofia Loren è nata il 20 settembre 1934 a Pozzuoli, il che ha sollevato ulteriori dubbi sulla veridicità della notizia. Tuttavia, è con sollievo che possiamo confermare che la bufala sulla morte di Sofia Loren è stata smentita ufficialmente. L'attrice è viva e sta bene. Questa notizia falsa ha scatenato una reazione di tristezza tra i suoi fan, che avevano iniziato a esprimere cordoglio sulla pagina. Alla fine, la verità ha prevalso, e possiamo continuare a celebrare la straordinaria carriera e la vita di questa leggenda del cinema italiano. Sofia Loren è e resterà un'icona intramontabile. Grazie per averci seguito, e rimanete connessi con Gossip TV 24 per tutte le ultime notizie e aggiornamenti.